Ennesima rapina al porto di Bari, sempre più insicuro, a detta degli operatori commerciali ormai esasperati. Due banditi incappucciati hanno preso di mira l'agenzia Lorusso all'interno dell'Ansa di Marisabella. Attorno alla mezzanotte di sabato sono entrati chirurgicamente in azione, pizzicando gli addetti alle prese col conteggio dell'incasso della giornata. Sotto la minaccia di una pistola si sono fatti consegnare circa 20.000 euro. L'intera bigliettazione della tratta Bari-Durazzo, gestita per conto della compagnia Venturis Ferris. Dopo aver messo in uno zaino i contanti, i due hanno comunicato via radio con l'esterno del porto. Ricevuto il via libera, hanno scavalcato la recinzione nei pressi della Fiera di Levante e si sono dileguati sfuggendo alle telecamere di sorveglianza. Il sospetto è che le rapine vengano organizzate in base a precise informazioni passate da personale interno al porto, in particolare, dicono gli operatori commerciali, dagli addetti alla sicurezza. Circa un mese fa, nel mirino dei banditi, è finita pure l'agenzia Superfast del Terminal Crociere. Il comando riuscì addirittura a sradicare un'intera cassaforte con 40.000 euro in contanti e a caricarla su un'imbarcazione che riuscì a prendere in largo, il tutto in assenza totale di controlli. Gli operatori annunciano manifestazioni di protesta contro l'autorità portuale, ritenuta responsabile della mancata sicurezza nell'intera area portuale.